E' stato Federico Campi con canestro da sotto a 53 secondi dalla fine a vanificare l'ottima prestazione della palacanestro molto alto d'ora ed è successo per il Cuspo Basket Alessandro e nonostante un'infermeria colma al termine una gara combattuta spettacolare nel finale che certifica quantomeno il terzo posto in classifica per gli universitari. 63-62 il finale, 12 punti e 7 rimbalzi per Grattarola, 10 per Palmesino con 11 rimbalzi e 11 falli subiti. Per Montalto 14 di Manfredo. Partita che si è decisa nel quarto periodo, che si è aperto subito con Campi, Pezzuolo e Palmesino per il 57-57. La tripla di Moni ha dato il primo vantaggio a Mandonio con 6 minuti da giocare, Montalto d'ora non segnava più. E' Monfroglio, dalla lunetta a sbloccare i suoi per il 61-58 a 2 minuti e 56 secondi. Giglio torse da sotto, porta Montalto a meno 1. Spettacolo finale, Manfredo in penetrazione porta sul più 1 i suoi a 1,46. Campi si carica il Cuspo sulle spalle e trova il più 1 a 53 secondi. Montalto disegna l'attacco di Manfredo, l'ala attacca talonato da riva ma il palone termina fuori. 63-62 il finale. Prossimo impegno per le eroni, domenica 22 gennaio alle 19.30 al palazzetto di Ciliano contro il Jolly Club Basket Ciliano nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Parliamo di automobilismo. Non era del tutto scontato, ma che la scelta del pilota tortonese Alessandro Pierguidi Per il ritorno della Ferrari al Mondiale Hypercar, forse logica, lo sapevano tutti, essendo stato protagonista nell'allestimento e nella messa a punto della nuova Ferrari 499 P. Con il compagno già in scalato, sarà a bordo di una delle due vetture in gara, esattamente la 51, con la quale debutterà nella 1000 Miglia il 17 marzo a Sebring. Sono orgoglioso di essere uno dei sei piloti scelte per la Hypercar, ha spiegato Pierguidi che intanto è alle prese con la preparazione per arrivare al meglio all'appuntamento. Dell'equipaggio faranno parte anche Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicholas Nielsen. Attifare per lui naturalmente, in prima linea, i soci della scuderia Ferrari Club di Alessandria, capitanati da Franco Giuliani. Grazie.